Cari amici, ebbene sì, dopo un gran premio ultimo della stagione di Formula 1 2021, abbastanza scoppiettante, soprattutto nel finale con questa safety car inaspettata, il caro Supermax Verstappen si aggiudica a poco più di 20 anni d'età il suo primo gran premio mondiale nella massima competizione delle quattro ruote tra Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Ovviamente i complimenti vanno a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Molto importante è stato anche il segno di rispetto e condivisione tra il campione uscente Lewis Hamilton e il campione entrante Max Verstappen e senza dimenticare comunque anche il terzo posto di Carlos Sainz che, ridendo e scherzando, ha fatto un'annata davvero importante posizionandosi al quinto posto nella classifica piloti finale. Anzi, questo ci fa capire magari come per l'anno prossimo Leclerc dovrà migliorare qualcosa, non che quest'anno non abbia fatto qualcosa di buono, ma magari portarsi entrambi i piloti sullo stesso livello o perché mai, magari far sì che la Ferrari possa puntare a dire ora di vingere il mondiale piloti, uno dei due piloti, no, ma chissà, magari quest'anno arrivati i terzi nella classifica costruttura l'anno prossimo secondi, buttiamola lì. Quindi, insomma, e ovviamente ci sarà anche una bella immagine di copertina di questo video. Io chiudo questo clip ribadendo, un super Max Verstappen detronizza il pluri, molto pluri, campione mondiale Lewis Hamilton e quindi nuova era, nuova vita, il presente e il futuro si chiama Max Verstappen. Ciao!